o ad esempio stasera siamo stati carini perché non ho filmato prima, qui siamo c'è una lezione di teatro al Mamimo, sede nel Mamimo, piccolo l'orozio e ce ne andiamo un serato di presentazione, giugno eccetera, primavera, allora lo sapete un po' il nostro pensiero su una marea di situazioni, c'è la privacy, la privacy vuol dire che è tutto un segreto, una lezione di teatro, qualsiasi cosa rappresenta un segreto, no? L'Italia è zeppa ormai di segreti militari, no? Perché se tutti pubblicano tutto dopo chi viene, vedete là, là ci sono passi di danza ad esempio, il teatro, Mamimo, lezione di teatro e ci ci sono questi guru, no? Ah, poi mi dicono, ah, beh, no, perché tu dopo, no, così, perché?